E' un minorenne di origine kosovara ad aver estratto il coltello e colpito la schiena con tre fendenti il diciottenne ferito domenica 10 novembre, il Largo Bonifacio. Confermata dunque l'origine dell'aggressore, individuato dalla polizia ed arrestato venerdì scorso. Stando alle testimonianze raccolte dalla nostra emittente sul posto, erano 4 o 5 giovani che si erano accaniti sul malcapitato in una zuffa scaturita nella zona della fontana in cui inizia il viale 20 settembre. Classico luogo di appuntamento e ritrovo per compagnie di giovani triestini e non. Gli uomini della squadra mobile avevano lavorato tempestivamente per raccogliere le testimonianze degli amici del ragazzo, anche questi di origine kosovara. Tutti i migrati di seconda generazione che hanno frequentato frequentano ancora le scuole in Italia e le minorenni triestine con cui si accompagnavano. Un paio di questi in evidente stato di shock per l'accaduto. Non è ancora chiaro se siano stati motivi di cuore o uno sgarro a un gruppetto, in qualche modo rivale, a scatenare tanta violenza i ragazzi così giovani. A salvare i diciottenne, stando a quanto riferito dal pronto soccorso, sono stati il maglione e il grosso giubbotto che indossava che hanno attutito i fendenti, i quali altrimenti avrebbero potuto colpire in punti vitali. Il ragazzo è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni, mentre sono attesi sviluppi ulteriori circa la posizione dei complici del minorenne kosovaro, finito in manette. Grazie a tutti.